Per pastito, si, va bene, ok. 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 I mean, why are you here? Per pastito, si, va bene, ok. 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 Here I am. Per pastito, si, va bene, ok. 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 Per pastito, si, va bene. Per pastito, si, va bene, ok. 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 Può bene, ok. Perché, va bene, ok. Per pastito, si, va bene, ok. Allora, è meraviglio da aver appena sbloccato un viaggio rapido. ho una bella genera non mi... su spati poi non mi sta dando una playlist ok patience, esatto quanto durava? 5 minuti e 44 ne ho ascoltata niente, più o meno vabbè, ci può stare ok ok ok, bene direi possiamo fare una doccia scanto di fragile ok cerchiamo una doccia e poi doccia che posso skipare anche ormai non ha fatto un banner pubblicitario va bene no, spero eh sì, credo di poterla skipare bene, ma c'è quella è quella rimane, giustamente compro i segni delle SIA ok ok grazie eh salto di fragile veramente tutto molto molto filo attivate il mignone collega south north city alla rete chiale che non nel tavolo lì ok 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 per digerirlo bene per digerirlo bene no vabbè la tira di monster che beve sempre con estrema enfasi bella raga perfetto possiamo levarci dal cazzo riusciamo dalla stanza privata e andiamo a fare la consegna beve 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 can you hear me can you hear me beve can you hear me Ok Va bene Attiva Terminale Ah ok Sprengo 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 Allora, accetta oggi, aspetta. Prima fammi riciclare la roba che ho usato, ok, ok, no, non hai temi piani, allora, ok, cicla, sì, è andata. Vediamo, c'è un'animazione anche? Va bene, grazie. Poi, accetta ordini, ordini per seme, vabbè, intanto devo fare tutto. Ok, volevo, ok, ripiologo dell'ordine, carico fragile, consegna unità bioerbo. Tutoriale funziona, ok, è un problema di sviluppo, no, no, vai, accettiamo l'ordine. L'ordine alla volta, se no. Ok. Ok. Qual è che tu si fa i cazzi suoi? Molto semplicemente, ok. Va bene. Ok. Vai, conferma. Vai, parti. Vai, parti. Va bene. Quanti metti sono? Eh, praticamente continuiamo. Va bene. Non vuoi muovere. Il BB sembra felice. Passo bene. Non vuoi muovere. Vai, eh. V Typ pato! Voi, va bene. Non vuoi. Voi? Fai. Voi. 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 Grazie, proprio me l'ho detto con questa allegria, meravigliosa, non mi piace, non c'è nessun apparente motivo Vi piaccio segnare 07 e qua credo che sia l'età Ok La mia motocicletta? No? Peccato, peccato perché comunque, invece di passeggiare a cazzo, magari sarebbe usato, non è utile, però Va bene anche così Ok, se assieme riposano nei pesi di un tumulo Ok Allora, devo fare molta attenzione Ok Adesso mi abbia visto Fanculo mi ha visto, via Via, via Via, che... quanti cazzo sono? Via 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 Non posso fare molto altro Allora Tengo che scappare ed evitarli In questa maniera Non me li aspettavo così tanti Non mi sogno nemmeno di prendere altri carichi oltre Ok Un'altra roba Bella E di qua Alla fine pensavo peggio Devo dire, alla fine pensavo peggio Ok Disconnessione dalla rete chirale effettuata Questo vuol dire che se ci sono le SIA da prendere cura Ingegnare Un'altra roba Vi da un'altra moto Vi da un'altra moto Sarebbe molto gradita Utilizzo di army limitato Va bene Attivate il minoda Attivate il minoda Ah, non mi spinta nessuno Pensavo... Fossevo dialoghi Ah, ecco, infatti Grazie Sam Bridges, credo Prendi Tu ho ovo Il chico che Stando a riconoscere I'valuvi Mi ha dato Mi ha dato Mi ha dato Time ha stato difficile senza Fragile Express Per trattare Ma guardare Ah Wow Tu hai davvero buona E'valuvi La Bridges sapere come Il testo di VNV Grazie L'ho praticamente consigliato un carico passato, tutto l'ho praticamente era perfetto. L'ho praticamente è un'herò tra e sempre. Guarda, io ero in una scelta, l'unico mondo che ho mai conosciuto è in questi panni. Quindi quando si parla di America, non posso mai capire di immaginare. Ma se questo Cupid mi colleghi a tutti altri, non ho dovuto. Quindi sì, voglio unire la UCA, voglio vedere cosa ho fatto. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 poche volte in tutta la mia vita mi inseguono ma non ho niente praticamente non ho carico vai scappa Sam ok devo girarlo che l'ho visto dopo mi voglio la mia cazzo di moto la vi voglio la che è lì su su qui non sembra se ci sale il cazzo posso seguirla tranquillamente vincolato un pochino o vi piace subire ok bella ricarica ottimo batteria di Sam completamente carica io mi chiedo a fare di mi piace ah che cazzo va bene dove cazzo è l'ingresso ok ok non posso usare il libro peccato sarebbe stato molto molto carico ora facciamo quell'autocarico vieni qua ne ho altri due ok mi chiedo mi chiedo mi chiedo mi chiedo mi chiedo perché no bastardo ordi passando fammi vedere allora vabbè che la porta prima carica aumentata andiamo si selezion posso fare anche più di una faccio entrambi vai non mi serve niente porta sulla schiena dispone si si ok partire si ah pensavo migli allora mi sembra più sensato prenderli entrambi insieme magari non mi dicono nulla allora fammi vedere dove un e andiamo qua tanto cambia poco ah non posso avere giustamente sapere di devo passare e è un peccato che non posso più utilizzare un'opera 4 sei risparmiato un po' di un po' di animazioni di sangue che corre con 90 kg sulla roba guarda qui la bocca cazzo di manichini abbiamo 3.300 metri avessimo non siamo lì ok vai io cammino per strada però voglio andare prima lì io vado prima a poi vado prima a qui perché però non mi voglia di riaffrontare quella roba quindi posso lanciare il carico una quantità ingente di danni allora mi conviene fino a un certo punto ok cazzo sono anche qui pensavo che la costata non ci fosse pensavo di passarla liscia ammetto pensavo di passarla liscia ok mi piacciono però le animazioni io con tanto non ho mai corso così tanto con Sharm da quando l'ho cominciato ho sempre fatto salinare cazzo perché giustamente se le volano le fai a cazzo non ci si diverte ok vediamo un monster posso? appena scendiamo sotto la metà io ricarico il io impiazzo un generatore per caricare il verso scritto grazie a tutti grazie a tutti Grazie.